Un anno di crescita per il centro M2 di Campo di Pietra che ha chiuso il 2013 come di consueto con il saggio di Natale. In vasca tutti gli atleti dell'avviamento, del nuoto sincronizzato, del vivaio preagonistico e dell'agonistico si sono insibiti in una suggestiva fiaba per celebrare l'importanza della solidarietà e dell'amicizia. Lo spettacolo è stato diretto dall'Accademia di Danza Classica e Moderna arabesca. Una prova per i più piccoli che davanti alle proprie famiglie hanno dimostrato le proprie abilità. Un momento di festa per lo staff del centro M2 che ha accolto l'occasione per augurare buone feste agli atleti e alle sue famiglie. La squadra M2 è cresciuta in questo 2013. La famiglia Mascioli è riuscita ad allestire uno staff qualificato e a coprire tutte le fasce d'età dai più piccoli ai master compresi anche gli atleti con difficoltà motorie che possono soffrire di una struttura senza barriere architettoniche. Una struttura polivanente che promuove attività di acqua, di terra, si può soffrire di un centro benessere e la scorsa settimana è stata inaugurata la galleria commerciale.